Due è l'incontro tra il cantautore Alberto Nemo e l'artista Mauro Mazziero. Due è una performance, un concerto per un solo spettatore. Quest'idea ha prodotto questa novità da un punto di vista artistico ed è stato curato da Claudio Strinati. In questo luogo sono esposte le copertine che in questo anno io e Alberto abbiamo realizzato. Lui chiaramente ha fatto la musica, io ho realizzato le copertine per i suoi album. Sono 26 album, 216 brani registrati. Un'esperienza unica. Un'esperienza unica dunque nelle suggestive location della Cappella dei Contadini e dell'Auditorium Scarfiotti. Un'esperienza introdotta dallo storico dell'arte e musicologo Claudio Strinati. Non esiste un artista che crea un'opera d'arte per se stesso. Questo qualcuno è il pubblico. Il pubblico è composto di tante persone. Però quando l'artista parla o dipinge o canta, si rivolge a un pubblico che ai suoi occhi è in qualche modo indifferenziato. Ma sempre vorrebbe che si concentrassi in un'unica mente che dialoga con lui. Questa mente non è in realtà la mente di una persona specifica, è la mente degli altri. E questo uno che si mette davanti al maestro Nemo per ascoltarlo non è una persona singola probabilmente nella testa dell'artista. È il rappresentante del pubblico. Quindi è un progetto che poi è in qualche modo collegato con le immagini dei Bazzieri. Queste copertine dei dischi sono un misto di ricordi di un mondo delicato, intimo, fiabesco e di un mondo speculativo, dotto e anche impegnativo.